Semifinale, finale, quindi qui non andremo nei dettagli, però come al solito io vi chiedo l'ultimo sforzo, all'applauso a loro che organizzano questa gara per me Perché come al solito è facile giudicare quando state di là, è difficile quando state di qua Un altro applauso a Val Morrison Detto questo, grazie a tutti e due Grazie a Patrick Grazie a Chris Grazie a Francesco E a questo punto non so se devi dire qualcosa Io sono una cosa prima che non so adesso di dire chi ha vinto Comunque il vincitore è invitato al Porto Fuliale a festeggiare tramite una piccola guest sul banco insieme a Federico Fasetti Quindi se vi fa piacere, uno qualsiasi Siete invitati Grazie Grazie, grazie mille Detto questo, complimenti ad entrambi per la gara che avete fatto Tutto questo, il vincitore è uno o il prossimo, siete stati vinti e due, tre Siete vinti e due, vinti e due Grazie 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 a tutti